Prima di parlarvi dell'argomento in questione vi dico che sul canale di Alfreds è uscito un altro video sempre inerente a questo argomento che come potrete immaginare sarà un grandissimo sfogo perché appunto il capitano della Lazio, Lucas Biglia, potrebbe andare a vestire la maglia del Milan quindi potete immaginare come sarà il suo stato d'animo. Detto questo mettiamo la sigla e poi incominciamo subito. Come vi ho appena detto ragazzi, Lucas Biglia sarebbe in procinto di andare a vestire la maglia del Milan il Milan che con il suo arrivo rinforzerebbe ulteriormente un centrocampo che pian piano sta diventando veramente molto competitivo. Allora io, come ho detto già in alcuni video diverso tempo fa, il Milan è una squadra che deve essere rifondata completamente non solo a centrocampo ma anche in difesa e soprattutto nell'attacco visto che molti degli attaccanti sono in procinto di partire o comunque non sono più adatti al gioco del Milan o comunque al gioco di un Milan che vuole tornare sui piani alti della classifica. Diciamo che era scontato che ci sarebbero stati così tanti acquisti ma in cuor mio non mi sarei mai aspettato che ancora prima della metà di giugno si sarebbero già concretizzati gli arrivi di Rodriguez, di Musacchio, di Chessy e appunto questo di Biglia che non è propriamente ufficiale perché non ci sono ancora le firme, il giocatore ancora non ha la maglia del Milan addosso però le parti sono veramente molto vicine e l'affare si dovrebbe concretizzare sulla base di 25 milioni di euro Allora, partiamo prima di tutto dal punto di vista della Lazio da quello che io so, il presidente Lotito ha offerto un rinnovo al centrocampista che però non ha voluto accettare proprio perché vuole andare via dalla Lazio e infatti secondo me i tifosti della Lazio non devono recriminare troppo al proprio presidente nonostante lo considerino molti come l'unico vero male della squadra in questo caso non gli possono dire niente perché se effettivamente ha offerto il rinnovo al proprio giocatore aumentandogli ulteriormente lo stipendio fino a 3 milioni netti l'anno e lui rifiuta di sicuro la colpa del suo possibile addio non è del presidente ma del giocatore che ha deciso appunto di andarsene in un'altra squadra Parlando invece in generale del valore del giocatore io l'ho considerato sempre un ottimo centrocampista uno di quei giocatori imprescindibili per ogni squadra diciamo che ha un difetto dalla sua parte e cioè che non è molto giovane visto che va per i 31 anni e comunque non ha così tanti anni di carriera davanti a sé però attualmente è nel pieno della sua carriera e con la Lazio ha sempre fatto vedere ottime cose al punto tale di diventarne il capitano un centrocampista molto bravo con i tiri dalla distanza bravo nella gestione palla molto bravo tecnicamente diventato comunque un caposaldo anche della nazionale argentina con la quale ha giocato diverse partite un centrocampista secondo me molto bravo e molto completo ed è proprio per questo motivo che 25 milioni non mi sembrano una cifra così elevata però ovviamente questa cifra è dettata dall'età del giocatore perché se avesse avuto 21 anni o più di lì sicuramente ci sarebbe voluto almeno il doppio dei milioni per portarlo a casa per adesso il Milan sta facendo un mercato oculato e molto attento perché non sta prendendo giocatori forti spendendo cifre folli comunque ha preso giocatori giovani molto talentuosi spendendoci il giusto perché 25 milioni per Biglia è un prezzo che ci può stare 28 perché sì è tanto però è una scommessa che si possono permettere di fare Rodriguez 16-17 milioni ci dovrebbero aver speso ed è una cifra secondo me iniqua se consideriamo il reale valore del giocatore stanno facendo comunque dei acquisti mirati per rendere la squadra competitiva fin dalla prossima stagione è normale che rispetto alle altre squadre si siano mossi prima perché come ho detto all'inizio hanno una squadra totalmente da rifondare la difesa la metà minimo deve andare via al centrocampo non ne parliamo e lo stesso vale per l'attacco di conseguenza rispetto alle altre squadre sono costretti a muoversi prima e visto che hanno le liquidità e non hanno il problema di fair play finanziario comunque non hanno problemi di bilancio è normale che stanno sistemando bene la rosa quindi io attualmente non mi stupisco di come si sta muovendo il Milan ma gli faccio dei complimenti perché si stanno muovendo secondo me verso la direzione giusta prendendo un mix di giocatori esperti e giovani ma che hanno talento da vendere chi per un motivo chi per l'altro quindi se il Milan dovesse concretizzare l'arrivo di Biglia per il proprio centrocampo lo rinforzerebbe veramente tanto insieme a che sì e probabilmente un altro acquisto lo renderebbe un centrocampo tra i migliori in Italia è adatto sicuramente per arrivare ad un posto in Europa e migliorare i preliminari ottenuti nella precedente stagione ritornando dal punto di vista della Lazio mi ci ritrovo molto nella loro situazione nel senso che sia noi che loro stanno vedendo soltanto giocatori che partono e pochissimi arrivi però voglio dare un consiglio a quei aziali che sono dispiaciuti da questa cessione che comunque i giocatori partono arrivano e partono ma verranno sostituiti o comunque si spera che verranno sostituiti non è tanto il problema che il giocatore va via ma soprattutto il suo sostituto se per esempio la Roma dovesse dar via Rudiger e dovesse arrivare a un centrale di buon livello e comunque che mi propone buone cose alla fine il dispiacerebbe il giocatore partito cioè passa come è arrivato Biglia c'è stata una Lazio anche prima di Biglia come c'è stata una Lazio prima di Keita e ci sarà una Lazio dopo di Keita qualora lui decida di partire voglio dare un consiglio a quei tifosi che come me vivono la propria squadra i propri giocatori come dei beniamini come degli idoli e che magari rimarrebbero male dalla loro partenza in un'altra squadra cercate comunque di capire che sono giocatori professionisti pagati per giocare dove gli pare di conseguenza se Biglia dovesse andare alla Lazio ok vi dispiace però pensate positivo pensate che potrebbe arrivare un sostituto che potrebbe fare meglio rispetto a quello che ha fatto lui con la vostra maglia è un consiglio che vi voglio dare da nemico e da rivale giallorosso detto questo fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate del possibile acquisto di Biglia da parte del Milan se secondo voi parte milanista lo considerate un bel colpo oppure se avreste preferito virare su altro e dal punto di vista dei laziali fatemi sapere se secondo voi è una cessione che vi fa male oppure che alla fine è una cessione che si può fare e che magari state già pensando ad un suo pronto sostituto ci vediamo più tardi per l'ultimo video inerente alla serie A con la rosa delle delusioni che unisce giocatori che hanno fatto male giocatori che ci si aspettava facessero bene e che invece hanno fatto male un saluto e sempre forza Roma ve lo faccio vedere anche qua ve lo faccio vedere ciao ragazzi